Ehi, ben ritrovati da Andralink91 e bentornati su Yo-Kai Watch Puni Puni Video un po' corto ma era giusto per farvi vedere cosa ho trovato nelle monete speciali di questo evento E anche per dirvi che da questo video in poi, nella descrizione, metterò due link che sono appunto di due pagine diverse Che trattano Yo-Kai Watch in maniera molto esplicativa Non sempre sono aggiornate sul momento però poco dopo che esce l'evento ci sono il 50% delle informazioni necessarie a completare l'evento A volte ce ne sono di più del 50% però entro due giorni dall'uscita dell'evento ci saranno tutte quante le informazioni come stage segreti Quali Yo-Kai si possono trovare, quali fanno bonus, quali fanno malus per l'avversario E cosa danno le nuove monete, se ce ne sono Insomma, tutte quante queste informazioni che poi serviranno appunto per completare e giocare al meglio l'evento Sono una pagina spagnola e una pagina che è un po' di tempo che non controllavo Sono dei documenti Google Deluxe che carica, ogni evento carica appunto questi documenti Ma è un po' che non lo seguivo perché caricavo in maniera discontinua Sembra che ora sia tornato fisso, bene incarreggiata, quindi metterò anche lui C'era un altro canale che andavo spesso a controllare, un'altra pagina Ma è stata chiusa e sono rimaste queste due quelle più attive Però quello che ho trovato in queste monete è abbastanza interessante Non mi aspettavo di trovare certi personaggi, specialmente due triple S Però ho visto appunto che in base alla moneta che avevi Uscivano dei personaggi di Yo-Kai Watch a tema Tipo c'era il robottino che mi ha fatto uscire tutti quanti Yo-Kai Robot Un po' una presa per il culo perché insomma non c'era niente Tutti quanti S, ok che ho trovato due triple S Però insomma avete capito qual è il fatto che non è che gioco semplicemente a Yo-Kai Watch Perché voglio gli Yo-Kai forti In gioco più che altro per la rarità Poi è ovvio che più è raro lo Yo-Kai più è forte Però se ha un'abilità che fa schifo Sinceramente non me ne faccio nulla Comunque brevissimo video giusto appunto per dirvi delle pagine web e di queste monete speciali E niente ci vediamo al prossimo video Bye bye